Come tanti altri, anch'io ero diventato schiavo della tendenza al nido Ikea. Ah, sì, vorrei ordinare la balza antipolvere di Erika Peccari. Se vedevo qualcosa di ingegnoso come un tavolinetto a forma di yin-yang, dovevo averlo. Il componibile personale per l'ufficio della Klipsk, la cicletta della Overtrek, il divano o masciabba a strisce verdi della String, perfino le lampade a filo rislampa fatte di carta non candeggiata per un ambiente rilassante. Sfogliavo quei cataloghi e mi domandavo quale tipo di salotto mi caratterizza come persona. Avevo tutto, anche i piatti di vetro con piccole bolle e imperfezioni, prova che erano stati realizzati da onesti, semplici, operosi indigeni, artigiani di... Dunque... Stavo attendendo.